Una battuta velocissima su questo e poi però guardiamo avanti, perché ormai il voto è stato, il primo passaggio al Senato c'è stato, però insomma c'è preferita la forma alla sostanza in questo caso, rimane un DDL ferito, come dice l'onorevole. Questa è una domanda che bisognerebbe fare ai senatori del PD che sono stati accusati da un loro collega europarlamentare di aver rotto il BIP perché appunto si opponevano alla normale discussione in aula del DDL in questione, si tratta dei famosi cattodem, per cui non sapendo il PD quanti ne fossero dei suoi a poter votare contro Stepchild e forse anche qualche altra cosa, hanno deciso con molto coraggio di buttare la palla in corner e ricorrere o all'emendamento Marcucci o alla fiducia pur di non metterci la faccia, perché bisogna dirsi le cose come sono, democrazia è votare, si va a votare, c'è la maggioranza, il provvedimento passa, non c'è la maggioranza, chi ha votato in un certo modo s'assume la responsabilità, ma questo il PD non lo voleva fare. Per cui rimando al mittente certe considerazioni perché il Movimento ha sempre dato la sua disponibilità a votare il testo del DDL Cirinna per come era stata approvata in Commissione di Giustizia, si è fatta salva la libertà di coscienza appunto per la Stepchild Adoption o adozione del figlio del compagno. Comunque il tema dell'adozione si riproporrà, proporare in Sidi, o Morra, condito al Stato, neanche prossima scuola, Cattaneo aspetti che Morra vuole parlare da 5 ore. Io ricordo sempre che la democrazia è rispetto delle regole, per cui se vengo invitato e non mi si fa parlare, concedetemelo, forse non è democrazia. Io voglio semplicemente ricordare che il caso in questione va valutato con straordinaria prudenza. A me stesso sembra che la genitorialità non sia, prima che un diritto, non sia altro che una responsabilità. E questo forse ce lo dimentichiamo, anche perché noi dovremmo anche metterci nei panni del minore. Non mi permetto di giudicare la scelta di vendola e del compagno, mi permetto però di sollevare il caso di un benestante, sempre che non sia avvenuto per donazione, perché abbiamo sentito cosa ha detto appunto Cattaneo, e ricordavo quella mappa che poc'anzi veniva proiettata, per cui in buona parte dell'Europa la maternità surrogata è vietata. In pochi paesi quella su base donativa è concessa, in pochi altri paesi l'Ucraina, se non sbaglio, quella a fini commerciali è altrettanto concessa dalla legge, però io sono dell'avviso che ragionare di genitorialità e quindi non di paternità o di maternità, ma di genitorialità è qualcosa di straordinariamente complesso. domando a me stesso se non sia il caso, per esempio, a fronte di minori che sono pressoché in numero illimitato, con una situazione legislativa italiana penosa, mi lasci dire, domando a me stesso se non sia il caso intanto di intervenire sull'esistente. fatto salvo, il rispetto che si deve avere nei confronti del desiderio di chi che sia di poter provare questa esperienza, però il desiderio è un discorso, il diritto è un altro discorso. Quindi lei dice regolare l'adozione, do due numeri, 35 mila minori fuori famiglia e 19 mila famiglie in attesa di eduzione. Quindi vedete, sono due realtà molto complicate, molto sofferenti che non si incontrano, quindi forse qualcosa per farle incontrare si può fare male, perché se prima Paolo Volterra accennava anche al tema del costo, di quello che è accaduto, anche il costo dell'adozione è altissimo, quindi anche lì si crea poi un divario di fatto. Se mi posso permettere, tutti quanti ricordiamo le fotografie che ritraggono un ministro dell'attuale governo, cioè Maria Elena Boschi, che era andata in Africa appunto per gestire una situazione problematica relativa al problema delle adozioni internazionali, se non ricordo male era il Congo il paese in questione. Benissimo, a me piacerebbe che al di là del clamore mediatico si ragionasse su base molto meno affaristica di quello che è possibile fare. Le stesse ribadiva dei numeri che sono là, evidenti, solari, 35 mila in attesa, 19 mila famiglie che sono disposte, è vero, bisogna sempre valutare, ma molto spesso si ingolfa il tutto per rendere la procedura ancora più costosa, pertanto diventa una cosa per pochi e un tweet mi ha colpito, intanto lui se l'è potuto permettere, questo francamente da cittadino democratico è inammissibile, pertanto benvenga un ripensamento sulla stepchild adoption, alla Camera chissà magari si modificherà il test in questione, anche se tutto questo poi produrrà dei problemi, perché forse questa è una scelta che alcuni vogliono per evitare che questa norma divenga legge, intanto però si provveda e si provveda non in base al clamore di un caso, bensì alle esigenze di tanti che non hanno magari la possibilità di andare in Canada o altrove, ma hanno magari la stessa dignità di chi vorrebbe. Intanto a proposito di casi clamorosi vediamo appunto il Ministro Boschi che accoglie i ragazzi dal Congo. Sì, però anche su quel caso, poi dovremmo anche domandarci che fine abbiano fatto quelle adozioni.